E' fitto il mistero sull'agguato di mercoledì mattina in via Niscemi, dove è rimasto ferito ad una gamba il venditore ambulante di frutta e verdura, Mirko Seminara. L'uomo che si trova ricoverato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta sarebbe stato sentito dai carabinieri ed avrebbe riferito di non aver visto in faccia la persona che gli ha sparato. I militari dell'arma tuttavia non si sono fermati a sentire solo il ferito, ma hanno anche interrogato altre persone che si trovavano in zona quando è avvenuto il grave episodio. Nessuno di loro però è stato in grado di fornire indicazioni utili a risarire all'autore del tentato omicidio. Nelle prossime ore, altro giro di interrogatori nel tentativo di trovare indizi utili per le indagini. Un contributo importante potrebbe arrivare dalle telecamere della videosorveglianza installate nella zona che potrebbero dare l'input decisivo ai carabinieri ed un volto all'uomo che ha sparato a Mirko Seminara. La vittima dell'agguato inoltre dovrebbe essere nuovamente sentita dagli investigatori nelle prossime ore.